Io Carla Nespolo, vicepresidente nazionale dell'AMPI, sostengo il progetto per non dimenticare della città di Nova Milanese e di Bolzano e in particolare sono molto lieta di constatare l'impegno di tante ragazze e ragazzi a sostegno dell'AMPI. Nata come associazione di partigiane e partigiani, oggi l'AMPI è un'associazione di partigiane e partigiani che sanno parlare e interloquire con tanti giovani perché appunto non si perda una memoria che non è né ritorica né soltanto nostalgia, è proprio un presente migliore che vogliamo per tutti e sappiamo che oggi il presente dei giovani è difficile sul tema del lavoro, sul tema dei diritti, l'AMPI è al loro fianco così come lo furono i giovani che 67 anni fa sulle nostre montagne e nelle nostre pianure hanno combattuto il fascismo e il nazismo e ci hanno gettato le basi, ci hanno donato la democrazia e la Costituzione. Non vogliamo perdere né il loro ricordo né il loro nascito, per questo difendiamo la Costituzione e estendiamo la democrazia. Ma noi ormai abbiamo un po' di anni e di cammino percorso e alle giovani generazioni che dal congresso di Chianciano e poi ancora con la nuova stagione dell'AMPI noi ci rivolgiamo per proseguire tutti insieme.